Musica E buon pomeriggio da Emilica Sciaro, bentrovati all'informazione di RT Calabria. Quindi la cronaca ci porta nel Cosentino, nel piccolo centro di Serra Pedaceo, dove un pensionato, un pastore, è stato ucciso nel pomeriggio di ieri nelle campagne alla base dell'omicidio vecchie ruggini legate alla pascolo di bestiame con il proprio vicino di casa. Sentiamo. Ci sarebbe una lite per questioni legate al pascolo degli animali alla base di un omicidio avvenuto ieri a Serra Pedaceo in provincia di Cosenza. Un pastore ha ucciso un uomo a colpi di arma da fuoco e ha ferito anche il genero della vittima. Si chiamava Francesco Palazzo, 66 anni, ed era un pensionato. Contro di lui è stato esploso un solo colpo di pistola, riuscito però a togliergli la vita. L'omicidio è stato individuato e fermato dai carabinieri e sarebbe già noto alle forze dell'ordine. Secondo una prima ricostruzione, l'omicidio avrebbe portato il suo greggio al pascolo, invadendo il terreno di proprietà di Palazzo, circostanza che si sarebbe verificata anche più volte in passato. Palazzo, insieme al figlio al genero, lo ha raggiunto probabilmente per un chiarimento. Ne è nata per una lite nel corso della quale il pastore ha estratto una pistola calibro 7,65 con matricola brasa che è stata recuperata dagli investigatori e ha fatto fuoco due volte uccidendo Palazzo e ferendo in modo lieve ad una gamba il genero. Il processo Marlane e i PM Calavresi chiedono oltre 60 anni di reclusione per i vertici della fabbrica tessile di Praia Mare. Gli imputati sono accusati di disastro ambientale e unicidio colposo. Secondo le indagini condotte dalla procura di Paola, sarebbero una quindicina agli ex dipendenti deceduti per l'esposizione agli agenti tossici. Lo stabilimento, ricordiamo, fu chiuso a metà degli anni 2000. E ancora la cronaca, la Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha sequestrato oltre 1200 capi contraffatti. La merce dalle firme Tarocche avrebbe fruttato, se immessa sul mercato, guadagni per oltre 200 mila euro. Vediamo il nostro servizio. I marchi c'erano tutti, da Dolce e Gabbana, dal Viero Martini e moltissimi altri. In tutto oltre 12 mila capi contraffatti pronti ad essere immessi sul mercato. Un'intera filiera produttiva, quella sequestrata dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria, che in questo modo ha scoperto di sistemi di contraffazioni per il confezionamento e l'etichettatura di capi d'abbigliamento delle più note firme italiane ed estere. L'operazione messa a segno dai militari è il frutto di un'intensa ed articolata attività investigativa eseguita con pedinamenti, appostamenti e sopralluoghi. Complessivamente sono stati sottoposti a sequestro oltre 12 mila pezzi, tra cui maglie, borse, giubbotti, camice, cinture ed occhiali riportanti marchi contraffatti, nonché tutto il materiale necessario alla contraffazione, come macchine per cucire, punzonatrici, martelletti e arnesivari. Il tutto avrebbe fruttato sul mercato oltre 200 mila euro. Cambio all'avvertice del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Crotone. L'ingegnere Giuseppe Bernardo, dopo circa tre anni, lascerà Crotone per assumere il comando provinciale di Vibo Valencia. A Crotone arriva l'ingegnere Antonio Casella, già comandante, nelle sedi di Messina e Vibo Valencia. Vediamo. Comandante, dopo quasi tre anni è giunto al termine della sua esperienza al comando dei Vigili del Fuoco di Crotone. Sì, beh, da lunedì prenderò servizio presso il comando provinciale di Vibo Valencia, quindi cesso praticamente la titolarità di comandante dei Vigili del Fuoco di Crotone, subentrerà a me il collega ingegnere Antonio Casella, che proviene proprio dal comando di Vibo Valencia. Se dobbiamo fare un escursus, ma comunque anche un resoconto di quella che è stata la sua esperienza e la sua attività a Crotone, cosa ci dice? Beh, è stata sicuramente un'esperienza bella, straordinaria, intensa, sofferta, anche difficile in alcuni momenti, però di un formativo incredibile. Cioè, credo, è stato il mio primo comando e ovviamente come primo comando, insomma, mi ha lasciato dei ricordi estremamente belli. Abbiamo fatto anche un ottimo lavoro, credo. In questi anni abbiamo lavorato sempre nella direzione di migliorare la professionalità della nostra struttura, di migliorare l'organizzazione, comunque di fornire sempre un miglior servizio sia alla cittadinanza che alle istituzioni, che comunque ci sono state sempre molto vicine. Qui abbiamo avuto un rapporto intenso, di fattiva collaborazione un po' con tutti e quindi si era creato, diciamo, anche un ambiente molto bello fra soggetti di istituzioni diverse in cui ognuno comunque dava la mano all'altro nelle situazioni più disparate perché comunque questa è una provincia che ha un sacco di problematiche di sicurezza, quindi ovviamente un territorio con tanti rischi dove comunque ci vedeva sempre comunque in prima linea a fianco a tutti gli altri soggetti dello Stato. Ecco, proprio di questo volevo parlare. I Vigili del Fuoco sono sempre in prima linea in qualsiasi situazione. Quali sono le carenze, se ce ne sono, di questo comando, diciamo? Beh, no, non si può parlare di carenze. Noi siamo comunque una struttura che se analizziamo questi tre anni abbiamo sempre dato risposte abbastanza efficaci alle richieste che ci sono arrivate dal territorio. È chiaro, si può sempre migliorare, si può sempre comunque fare di più. Stiamo facendo faticosamente i passaggi di qualifica, quindi stiamo cercando comunque di costruire le figure dei qualificati, dei capisquadri e dei capireparto che comunque sono essenziali nella nostra organizzazione. Però anche se con una certa lentezza, insomma, stiamo andando avanti anche in questo campo. Quindi credo che fra un po' di tempo questo comando abbia una sua configurazione definitiva che lo rende anche molto efficace sul territorio. Quando parlavo di carenze, non parlavo di carenze di uomini o di carenze di responsabilità. Io parlavo di carenze strutturali che magari possono garantire di meno anche il soccorso e l'aiuto che voi professionalmente ogni giorno date. Beh, ovviamente siamo in una congiuntura economica particolare, quindi la spending review funziona anche per il corpo nazionale. Però abbiamo cercato anche in questi anni di ottimizzare le risorse che avevamo, cercato di risparmiare dove potevamo risparmiare, cercando di rinvestire dove invece era necessario rinvestire. Comunque ritengo che nonostante questa penuria, perché effettivamente c'è stata una penuria di risorse, comunque siamo riusciti a garantire un livello abbastanza buono di servizi. E' chiaro, insomma, se le risorse vengono tagliate ulteriormente, il livello di servizi ne subisce comunque un danno. Però ritengo che ancora a livello attuale siamo in grado di fornire un servizio assolutamente buono. E la segreteria provinciale del Partito Democratico di Vibo Valencia disconosce le liste ufficiali presentate dal partito. Vediamo perché. La segreteria nazionale del PD prende le distanze dalle liste presentate per le elezioni provinciali di Vibo Valencia ed il segretario provinciale del partito replica. Ma ci siamo discostati dalle indicazioni del regionale. A Vibo, oltre alla lista che è il simbolo del PD, ne è stata presentata un'altra, di cui fanno parte esponenti del PD vicini all'ex presidente della provincia Francesco Denisi, all'assessore regionale del nuovo centrodestra Nazareno Salerno e dal consigliere regionale di Forza Italia Salvatore Bulzomi. Della stessa lista fa parte anche un candidato di Fratelli d'Italia. In una lettera pubblicata da organi di stampa inviata nei giorni scorsi ai segretari regionali e provinciali del PD, Ernesto Magorno e Michele Mirabello, il vice segretario nazionale Lorenzo Guerini, ha affermato che, pur nella impossibilità di ritirare il simbolo già depositato, la segreteria nazionale prende atto che risultano candidati in due liste contrapposte, amministratori locali iscritti al PD, ma al contempo disconosce le liste presentate, quali liste ufficiali del PD. L'avere presentato due liste riconducibili al PD contro la volontà del nazionale e del regionale, in cui risultano candidati anche indipendenti e di altri schieramenti politici, l'aver candidato un amministratore incandidabile, l'aver depositato da parte di una delle due liste e contro la volontà del segretario regionale un contrassegno con il logo del PD modificato, hanno procurato un vulnus impossibile da ignorare. Il sottoscritto, scrive adesso Mirabello a Guerini, è stato ampiamente ai patti, lavorando in costante contatto con Magorno, che non può non averti riferito di aver appreso in viva voce dell'esito della riunione finale e della decisione unilaterale di una parte del partito di abbandonare la riunione, rappresentando le difficoltà a tornare indietro dagli impegni già assunti con altri non meglio precisati soggetti politici e rifiutando tutte le proposte per una lista unitaria che ho formulato in conformità ai dettami di un intercorso contatto telefonico che ho avuto con te. Lo stesso segretario regionale non mi ha mai comunicato né formalmente né informalmente all'esito della riunione in cui un'aurea ben definita ha di fatto sconfessato le indicazioni del nazionale e del regionale alcuna interdizione all'utilizzo del simbolo del partito. Ritengo, conclude Mirabello, che ad aver compromesso l'immagine del partito sia questa circostanza più di ogni altra. Osservo però sbigottito questa sorta di processo nel quale stranamente ed improvvisamente assume il ruolo inaccettabile di imputato. Solo il circolare, incontrollato di informazioni parziali e raffazzonate, può avere generato questo clamoroso ed inaccettabile ribaltamento delle posizioni. Ma a preoccuparmi è il rischio di delegittimare un'intera classe dirigente alla vigilia di appuntamenti elettorali, magari concretizzando così in forma indiretta gli spregiudicati e reali obiettivi del centrodestra. E' ben ritrovati in studio. In Calabria le assicurazioni auto più care d'Italia e quanto emerge da uno studio. Vediamo. Lo studio è scritto in una nota, ha monitorato i prezzi delle compagnie e le caratteristiche dei preventivi compilati dagli utenti per scoprire comportamenti, caratteristiche e tariffe medie. L'indagine ha preso in considerazione tre profili tipo, a cui corrispondono classe di merito ed età differenti. Nel dettaglio, per il primo profilo, relativo ad un guidatore di 40 anni in prima classe di merito, l'assicurazione auto costa maggiormente a chi risiede nella provincia di Reggio Calabria 634,35 euro, mentre per i più fortunati di Cosenza ne bastano 368,7 euro. Tutte le altre province hanno per questo profilo premi oscillanti attorno ai 500 euro, con il minimo a Catanzaro 517,31 euro e il massimo a Crotone 567,39 euro. Le differenze tra i premi medi, prosegue la nota, non sono troppo marcate anche per quanto riguarda il secondo profilo, una donna di 35 anni in quarta classe di merito. In questo caso va segnalata la provincia con i premi più alti, Reggio Calabria 676,05 euro. Vari invece di oltre 200 euro il premio fra la più cara, Catanzaro, 2.263 euro, e la più economica, Cosenza, 2.055,26 euro, per il terzo profilo, un giovane neopatentato in quattordicesima classe. In questo caso la differenza con la media italiana è ancora più evidente, considerando che a livello nazionale la cifra richiesta è di 1.420,67 euro. La situazione del RC Auto in Calabria è scritto nella nota, rimane quindi fra le più onerose per gli automobilisti. E questo, nonostante il calo annuale registrato in Italia, abbia interessato in maniera più evidente la regione, con picchi del meno 14,86% a Cosenza. Vibbo Valencia è invece la provincia dove i premi si sono abbassati in meno che altrove, rimanendo praticamente invariati con una percentuale ferma al meno 0,12%. Tante novità e tante innovazioni all'Istituto Giovanni XXIII di Crotone, ne parliamo con il dirigente scolastico Maria Fontana Ardito. Vediamo il servizio. Da una settimana è iniziato l'anno scolastico, il nuovo anno scolastico, facendo un attimo il punto di quello che sarà l'anno a venire, ma quello che è stato tutta l'organizzazione per arrivare a questo. Ha detto bene, tutta l'organizzazione, per i docenti e per gli alunni la scuola è iniziata da una settimana, per il dirigente, per tutta l'amministrazione che rappresento non c'è stata soluzione di continuità, nel senso che c'è stato un lavoro di organizzazione, di riorganizzazione. Questo istituto comprensivo si sta infatti riorganizzando, sono cambiati due collaboratori, è cambiata l'organizzazione anche interna degli spazi, le quinte della scuola primaria sono state spostate alla Giovanni, e questo soprattutto nella logica del curriculum verticale. Tanti cambiamenti alla Giovanni. Dopo la prima fase, quindi quella della riorganizzazione e sicuramente dell'avvio, che c'è stato ormai da una settimana, ancora lo siamo in questa fase, i progetti? Allora, i progetti, insomma, tantissimi. Intanto c'è un progetto, insomma, lettura, che deve essere, insomma, coltivato, connesso al progetto Biblioteca e connesso al progetto Gutenberg. Una delle linee di indirizzo fondanti proprio di questo istituto è la lettura, la lettura come approccio, la lettura come conoscenza, La lettura aiuta a interpretare la realtà e quindi assolutamente insisterò, insomma, su questo. Voglio dare grande spazio alla nostra biblioteca, aprendola anche al territorio, con l'acquisto anche di testi destinati all'infanzia. La letteratura dell'infanzia è molto vasta, va dai 0 ai 15 anni e oltre. E poi la conoscenza delle lingue, ecco, utilizzando le risorse interne, quindi i genitori non dovranno spendere un centesimo, la conoscenza e lo studio della lingua nell'infanzia a partire dai 4, quindi dai 5 anni, solo con le risorse interne. A tutti i bambini ne sono escluso. Insomma, questo istituto Giovanni XXIII si sta aprendo al territorio, si sta rinnovando, cercando di puntare proprio sul cambiamento e anche su quelle che sono le offerte del territorio. Assolutamente sì, è un nuovo istituto, insomma, comprensivo, che rispecchia l'entusiasmo che ha questo dirigente. Ora a Cosenza sembrano senza fine i lavori in Piazza Bilotti ed ora i commercianti chiedono i lavori più rapidi al Comune. Sentiamo. Con viva preoccupazione ci rivolgiamo a lei per i lavori di rifacimento di Piazza Bilotti, avendo constatato nostro malgrado la lentezza con cui gli stessi procedono. Preoccupazione dettata dalla situazione di crisi economica che attanaglia le nostre attività commerciali ed aggravata dallo stato attuale dei luoghi per le barriere metalliche poste in essere per recintare il cantiere con le conseguenze inimmaginabili che ne derivano per un protararsi a lungo di tale situazione. Inizia così la missiva sottoscritta dai circa 30 negozianti di Piazza Bilotti ed indirizzata al sindaco Chiuto per chiedere i tempi brevi di realizzazione dei lavori nella piazza. Sì, perché con l'inibizione al traffico il commercio in quell'area sta morendo. Le rivolgiamo l'appello, dicono, per un suo autorevole intervento presso la ditta esecutrice dei lavori al fine di aumentare il ritmo degli stessi con l'impiego di altro personale e mezzi e quindi di dare un'accelerata ai lavori in oggetto e portare a compimento l'opera in tempi brevi. Secondo il progetto, infatti, la piazza per avere un nuovo look avrebbe dovuto attendere 540 giorni ma ne sono trascorsi già 380 e dunque per primavera, teoricamente, i lavori dovrebbero concludersi ma per i commercianti dell'area pensare positivo e fidarsi è divenuta impresa impossibile. Un incontro pubblico presso la sala conferenza Eugenio Guarascio di Crotonei per informare la cittadinanza in merito ai tributi locali e dell'importante transazione esigliata tra Comune di Crotonei e A2SPA, società che gestisce il bando del Lago Ampollino. Vediamo maggiori dettagli in questo servizio. Sindaco, un incontro con i cittadini per informarli più che altro sui tributi locali e anche per presentare questa transazione tra il Comune di Crotonei e l'A2A? Sì, l'occasione annuale che noi facciamo di volta in volta diventa più difficile chiamarla bilancio partecipato perché inevitabilmente con quelle che sono le nuove normative sulla tempistica dell'approvazione del bilancio degli enti locali non ci è consentito di fatto di fare una programmazione di più a lungo gittata e pertanto questa occasione di incontro mira ad avere un momento di confronto con la cittadinanza rispetto alle scelte tributarie che poi anche sono le scelte di bilancio comunale e pertanto tutte quante quelle che sono le opzioni che hanno avuto modo di indicare all'interno di quella che è la programmazione finanziaria del Comune. Quest'anno abbiamo fatto un bilancio che ha introdotto per come previsto dalla legge la Tasi la nuova norma direttamente stabilita da parte del Governo relativamente alle unità immobiliari l'abbiamo introdotta in una maniera la più lieve possibile non solo dal punto di vista della percentuale la norma stabilisce che la tassa si può applicare dall'1 al 250 per mille su quelle che sono le abitazioni noi l'abbiamo introdotta all'1 per mille e abbiamo previsto una serie di agevolazioni e chi ha la seconda abitazione ha una riduzione dello 0,25 per cui di fatto paga 0,75 e non l'1 per mille chi ha un'abitazione principale qui a Cotonei oltre ad avere l'esenzione di 30 euro per unità immobiliare ha sempre l'applicazione dell'1 per mille abbiamo potuto fare questo tipo di scelte confermando quelle che sono le tariffe relative all'Imu mantenendo quelle che erano le tariffe relativamente al servizio mensa, pulmino e tutti quanti gli altri livelli di servizio inalterati rispetto a quelle che erano le previsioni effettuate e le scelte effettuate nell'arco dell'anno precedente per cui nessun nuovo aumento, una leggera rideterminazione e riduzione di quelle che sono le tariffe relative al servizio Tarsu abbiamo potuto fare questo tipo di scelte perché abbiamo definito con la società di produzione di energia elettrica una volta Enel, poi successivamente Endesa, ora 2A un accordo relativamente al mancato pagamento dei tributi da parte della società stessa abbiamo avviato una serie di azioni giudiziarie che hanno avuto modo di vederci vincitori in ogni luogo dalle commissioni tributarie locali a quelle provinciali e poi subito dopo a portare a miti consigli anche la società stessa che è il più grosso soggetto che ha unità immobiliari nella nostra realtà locale dal lago fino ad arrivare a tutte quante le centrali pertanto rideterminare quella che era la tariffa che loro dovevano andare a pagare dal punto di vista della rendita catastale abbiamo trovato un accordo complessivo, un accordo significativo che ci ha consentito di poter attuare politiche fiscali più eque scelte rispetto a quelle che sono le questioni che pongono i cittadini più opportune ed anche la possibilità di poter avviare una fase di intervento che in questi giorni si stanno già realizzando all'interno di quelle che sono le realtà comunali manutenzioni, rideterminazione di quello che è il verde urbano e quant'altro oltre che gli interventi di viabilità ed altro che sono stato frutto di questo tipo di scelte l'altro elemento essenziale è che noi abbiamo guardato con particolare attenzione alle fasce più deboli nel senso che abbiamo provveduto a stanziare una parte significativa di questa prima tranche di A2A a quelle che sono gli interventi della natura sociosanitaria assistenziale E in chiusura vi ricordo l'appuntamento del lunedì sera alla 21 la trasmissione a tutto campo ospiti di Maurizio Insardai e Fabio Regalino il direttore sportivo del Catanzaro Ortoli e il direttore sportivo del Cosenza Calcio Meluso appuntamento quindi alla 21 naturalmente sul nostro canale sul 12 è tutto per questa edizione vi lascio ora con le notizie sportive l'informazione torna alle 17 arrivederci